siamo al momento dell'intervista insomma da un po di tempo che lo rincorro e sono contento che è venuto dall'amata svizzera da lugano insomma qui nella nostra sede di milano carlo colombo buongiorno buongiorno claudio architetto archistar bisogna dirlo perché non è un architetto normale insomma designer e anche imprenditore questo è importante insomma per dare il quadro insomma della sua biografia che potete trovare insomma in ampi stracci su internet ci ha portato questo bel libro edito da rizzoli come vedete carlo colombo industrial design allora cominciamo da qua no perché il design si siamo alla vigilia del salone del mobile milano un grande evento economico estetico filosofico insomma importantissimo insomma sia per il design che per la città il 16 poi ci insomma ci parlerà noi ci conosciamo però citiamo delle in onda come è giusto e corretto che sia per il pubblico ci parlerà delle sue iniziative industrial design mette insieme due cose no mette insieme il senso della bellezza di cui abbiamo discusso tante volte nelle volte che l'ho intervistata l'anno scorso ho moderato un evento al sono del mobile in cui colombo era uno dei sei archistari importantissimi partecipavano a questo talk e però anche il concetto dell'imprenditoria dell'azienda del fatto che diventi un business che diventi una cosa che ha delle caratteristiche amministrative economiche sono due mondi che qualche volta sembrerebbe distanti come ha fatto a unirli beh certo è vero quello che ha detto il design è qualcosa di importante nella mia vita perché ha cambiato totalmente radicalmente il mio modo di vivere sia nella vita professionale ma anche in quella privata noi tutti i giorni abbiamo bisogno di design noi siamo seduti su degli sgabelli abbiamo bisogno un tavolo delle forchette dei piatti per poter mangiare un'automobile per poter girare viviamo di design tutti i giorni però il design può essere fatto in diversi modi la bellezza del design ci gratifica all'interno della nostra vita quotidiana e negli atti che tutti i giorni noi a livello privato e sociale facciamo l'industrial design nasce a Weimar dal Walter Gropius dove ha iniziato a demolire un po' quello che era il movimento dell'art nouveau quindi un movimento molto sofisticato molto disegnato andando a pulirlo e a creare invece un progetto che sia sempre stato un progetto democratico cioè vuol dire il design alla portata di tutti cioè riuscire a fare un prodotto di industrial design cioè un prodotto che viene venduto a tutte le possibili persone in giro per il mondo è qualcosa che è l'obiettivo di noi designer si può dividere in due modi c'è un progetto d'arte dove c'è la massima libertà ed è un progetto estremamente limitato ma il progetto di design è un progetto che quando noi disegniamo pensiamo pensiamo a livello internazionale ed è un mondo a 360 gradi dove tutti possono usufruire di questi oggetti pagando il giusto attraverso la bellezza attraverso la funzione attraverso la capacità di poter vivere tutti i giorni questi oggetti parliamo un secondo del mondo globalizzato della comunicazione di questo mondo lei sono sbaglio lombardo giusto quasi milanese quasi milanese ha una base a lugano però ha studi a milano in tutto il mondo insomma quindi se ci vuole ricordare dove noi abbiamo uffici a dubai abbiamo uffici a zurigo a lugano a miami a new york a guangzhou e quindi il fatto di avere uffici di lavorare in tutto il mondo significa davvero essere nel mondo no quindi mi affascinava molto questa cosa che lei diceva di produrre in modo tale che poi sia democratico e sia accessibile ma se si ricorda l'anno scorso abbiamo fatto un discorso anche sul luxuri sul fatto che poi l'italia è considerata nel mondo bellezza quindi vuol dire anche sempre interni curati vuol dire anche materiali belli da mettere in casa spesso però queste cose possiamo dire non è che vogliono essere volevi non se la possono permettere tutti è un mercato preciso non del tutto democratico siamo lo concetto giusto sì è vero devo dire che siamo vicini siamo vicini al seno del mobile ed effettivamente il mondo del design o tutto quello che attorno al mondo del design perché il pezzo di design fino a se stesso se vogliamo per chi concerne per quello che concerne il mondo del industrial design è rimasto lo stesso è tutto l'involucro che c'è attorno è tutta la parte di comunicazione che si è evoluta tantissimo e il mondo fashion ha influito veramente tanto in questo settore perché l'utilizzo di materiali molto sofisticati molto costosi molto elaborati che fanno da contorno al mondo del design per poter fare marketing e poterlo vendere ha sicuramente influenzato tutto quello che è diciamo questo mondo e allora diventa un po difficile riuscire a conciliare tutte e due le cose il made in italy è sempre in salute? il made in italy è perfettamente in salute io giro il mondo tantissimo sono sempre in aereo devo dire quando parli di italianità c'è grande rispetto per la creatività per il mondo del made in italy quello sì cosa presenterà con Carlo Volombo al seno del mobile che arriva? che cosa avete storicato? le collezioni sono molteplici sono tante con tanti brand legati anche l'automotive al fashion quindi da Trussar di casa a Elisab fino ad arrivare a Bentley e da Bugatti e poi clienti storici come Giorgetti come Antonio Lupi come Artemide e tanti altri diciamo brand con i quali io lavoro da tantissimi anni e quindi diciamo non è possibile svelare esattamente flu tantissimi brand ma andremo a vedere e tante s economy se ne occupano se andremo a Milano si è uno degli grandi eventi economici della nazione si arriveranno come al solito circa 500 mila persone da tutto il mondo per diciamo ammirare quello che è la nostra creatività il nostro modo di essere italiani nel mondo attraverso diciamo il mondo del design vero senta ma si vede lei nel aspetto ai disegni basta vedere come siamo vestiti io sono in versione giornalistica io da quando ho vent'anni che vesto così insomma no però la gravatta un po' così invece vedo tutto un insieme di panna tutto bene armonizzato diciamo che cerchiamo di essere ma ci ho messo un paio d'ore no beh un penso due minuti ma va bene tra di questa battuta mi parlava fuori onda ci siamo salutati un attimo prima di questa intervista anche di un'iniziativa curiosa che ha a che fare con il mondo della musica no? si quest'anno per uscire un po' dallo schema del design tradizionale c'è stata questa richiesta da parte di Albertino famoso dj che è il direttore artistico di M2O che mi ha chiamato per disegnare questa nuova console per il mondo della musica ed è uscito un progetto molto interessante verrà presentato un evento alla fabbrica del vapore il 19 sera a Milano e saranno solo 500 invitati ma è già il progetto con dei teaser con dei teaser in instagram nei vari social miei e anche della radio e già si vede un po' come è fatto questo progetto devo dire che è molto interessante perché è una sorta di musicalità del design nel senso che il design è anche musica cioè vuole essere anche musica perché fa parte come dicevo prima ma di tutta una serie di interazioni della nostra vita privata e sociale e quindi pensare anche un oggetto di questo tipo che devo dire non ci sono grandissimi esperimenti o comunque progetti all'interno del mondo musicale mi è servito per poter ampliare un attimino le mie esperienze ma soprattutto mi sono anche divertito quindi è stato un progetto molto ironico la vedremo alla console? la vedremo alla console sarà molto divertente parliamo di una cosa che ha a che fare con la contemporaneità e uso questo termine che qui decliniamo tante volte in economia, nel green, nella governance, la sostenibilità oggi quando lei pensa a un interno quando pensa a una casa, quando gliela commissionano o nella sua storia di architetto e di archistare ha fatto anche torri, case, non è che ha fatto solo interni come è cambiato il vostro approccio a quello che è la sostenibilità per quanto riguarda per esempio una casa e anche di come è fatta e per quanto riguarda invece un'opera architettonica in una città come si cala in quello che oramai tutti conoscono l'idea della smart city, della città del XXI secolo che è più vivibile, con una mobilità diversa probabilmente legata anche al digitale cioè quanto ha cambiato il suo lavoro questo tema della sostenibilità? quanto lei ci tiene? si è cambiato tantissimo devo dire un'ottima domanda perché potremmo parlarne per tantissimo tempo però stringendo abbiamo le varie mie attività diciamo con il mio socio con Paolo Colombo abbiamo aperto questo ufficio a Lugano circa 15 anni fa con un brand che si chiama A++ e questo brand nasce proprio da un progetto sostenibile è nato su un'idea precisa di lavorare attraverso il mondo della sostenibilità dove però l'uomo è al centro del progetto cioè la massima sostenibilità è pensare all'uomo che sia all'interno del progetto poi arriva tutta la parte tecnologica e la parte tecnologica come diceva lei prima ha cambiato sostanzialmente tutto il modo di progettare oggi noi non pensiamo più ad un progetto a divenire da qui a 5 anni ma da qui a 20 anni stiamo affrontando progetti sostenibili in tutto il mondo da Abu Dhabi a Dubai alla Cina agli Stati Uniti dove il pensiero è veramente legato anche al trasporto quindi non si pensa più ai parcheggi ad esempio delle auto ma si sta già pensando a dei parcheggi che sono legati a dei droni che voleranno perché fra 20 anni probabilmente non ci saranno neanche più le automobili elettriche ma gli spostamenti saranno legati ad altre tipologie per cui il pensiero è strettamente legato anche ai materiali che noi utilizziamo quindi c'è una ricerca, noi abbiamo un comparto di 30 ingegneri che lavorano tutti i giorni a cercare nuovi materiali che arrivino dal mondo della natura piuttosto che da altri mondi che possono essere veramente precisi, identificati per quel tipo di progetto per cui è cambiato completamente e cambierà anche il nostro modo di vivere non solo il modo di progettare assolutamente Senta, io ho studiato estetica all'università che quindi è la disciplina filosofica che si occupa della bellezza e definiamo soprattutto nella letteratura, nell'arte che cos'è la bellezza per lei, Colombo? Beh, la bellezza è qualcosa che devi avere dentro innanzitutto perché è un sentimento è qualcosa che fa parte della tua vita fa parte della propria cultura per me la bellezza è anche l'arte perché essendo italiano e avendo in Italia il 70% del patrimonio artistico mondiale non si può non essere appassionati di arte, di bellezza, di consapevolezza di quello che noi siamo e che vorremmo essere quindi il piacere di vivere tutti i giorni con qualcosa che ti fa stare bene quindi io devo stare bene, ho voglia di stare bene devo accerchiarmi di persone devo accerchiarmi di opere, di oggetti, di sensazioni e di qualcosa che mi faccia stare bene tutti i giorni Sette, le cose brutte della nostra contemporaneità noi parliamo tutti i giorni io nel mio mestiere, sono un giornalista politico soprattutto come lei sa, cronista parliamo di guerre, parliamo di attentati parliamo di insicurezza parliamo, diciamo, di un livello anche spesso di degradazione dei rapporti sociali, specie nel post-Covid tutto questo elemento quanto incide nel suo lavoro o nella sua visione del mondo? Beh, questo incide perché sicuramente a livello psicologico tutte queste situazioni brutte che ci sono all'interno del mondo non portano certo sicurezza o comunque serenità però cerchiamo di trasformare tutta questa parte negativa nella positività della creatività che fa parte del nostro lavoro e quindi il fatto di avere un foglio bianco con una matita e una penna e poterlo violentare con la bellezza e creare qualcosa che possa far star bene le persone questo penso che sia un modo per poter ricaricare e trovare quell'aspetto positivo all'interno di questa negatività che oggi il mondo purtroppo ci mette davanti agli occhi io ho trovato nella sua biografia due termini che la riassumono forse anche i termini che mi appassionano a me che sono un semiolo di industrial design quindi arte, industria passionalità e razionalità sono questi due termini che la definiscono o ce n'è qualcun altro? Sì, no, sono due termini corretti che identificano un po' la mia persona perché la passione per questo lavoro che per me non è un lavoro è veramente una passione, una gioia di vivere tutti i giorni e di poter creare sono un tipo molto curioso per cui viaggio tantissimo e cerco sempre di captare e di imparare tantissimo di stare anche in silenzio e sapere ascoltare e l'ascolto secondo me è la prima cosa per poter fare bene questo lavoro assimilare il più possibile imparare il più possibile per poi donarlo agli altri attraverso i nostri progetti che sia un oggetto di design che sia un'architettura, un interior in qualsiasi parte del mondo Questa vostra industria non solo la sua personale e il suo socio ma diciamo come comparto dà ancora posti di lavoro è ancora una via per i giovani? C'è una formazione? C'è una strada possibile? Sì, noi nei vari uffici abbiamo quasi 200 persone oggi e la maggior parte sono tutti giovani ricerchiamo sempre giovani perché il fatto di lavorare con persone che non hanno la mia età ti permette di avere una visione completamente diversa noi siamo dei visionari il nostro progetto è sempre pensato lo dicevo prima proiettato verso il futuro e non il presente perché non puoi progettare per oggi il progetto di oggi è già vecchio devi già pensare a qualcosa che possa essere avanti almeno dieci anni e quindi questo sicuramente fa parte della nostra storicità del nostro modo di essere va bene allora ci dio un buon motivo prima di salutarci per leggere questo libro per guardarlo sicuramente è molto bello vi faremo vedere il montaggio delle immagini insomma un po' complicato da aprire perché è un libro duro un buon motivo per acquistarlo insomma e leggerlo e vederlo perché se hai libri bisogna sempre dare una ragione innanzitutto la copertina è molto invitante perché c'è una poltrona volutamente si parlava prima di industrial design quella quell'oggetto che c'è in copertina è tutto tranne industrial design perché è un pezzo d'arte e quindi proprio per evitare di parlare di mettere in copertina e far litigare i vari imprenditori di cui io parlo all'interno del libro ho messo un pezzo mio personale sono per malosi sono per malosi sì ho messo un pezzo mio d'arte che esula dal design ma è un pezzo d'arte un pezzo artistico che comunque ha sicuramente la componente del design all'interno ma l'arte ti permette di andare oltre di volare oltre il mondo del design beh il nostro pubblico lo sa nelle rubriche che faccio dal 2020 per Italpress dove ospito politici in primo piano ma anche scrittori autori di libri ma anche qui in Italpress Economy io i libri li posto sempre perché dico sempre in un paese in cui si legge poco anche libri che sono poi in gran parte di immagini non solo di testi libri che vanno fatti vedere sono un orgoglio sono una cosa che va fatta conoscere senta Carlo Colombo io la ringrazio grazie di essere molto grazie a lei direttore Italpress Economy insomma l'augulo insomma bocca al lupo per il solo del mobile grazie perché insomma è sempre un momento di gioia ma anche di confronto professionale nel vostro mondo ci sta facendo stare assolutamente l'intelligenza artificiale è diventata parte integrante del nostro lavoro ti permette di fare delle visualizzazioni che siano veramente concrete reali cioè gli utenti attraverso l'intelligenza artificiale ma anche per noi stessi per valorizzare e capire se il progetto sta andando nella giusta direzione questa tecnologia ti permette di essere veramente in quel momento e proiettati anche nel futuro l'uomo assolutamente nulla viene fatto senza l'uomo no assolutamente no assolutamente no vabbè l'uomo assolutamente no